non c'è niente da fare sei speciale una stilista speciale è solo un impermeabile a mantellina però è bello grazie dove sono finiti tutti non lo so ma dobbiamo iniziare a cucire tranquilla ti aiuto io maggie se non sposo maria resterò per sempre un rospo ma io preferirei essere sempre un rospo insieme a te piuttosto che sposarmi con lei ma tu sarai sempre il mio principe anche da rospo e fuggiremo anche noi in alzazia hai detto alzazia? no 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 cioè sì pensavo ai rospi che emigrano dobbiamo aiutarli ah certo sono una principessa senza il suo principe ranocchio si può sapere dove vi eravate cacciati? cari amici non approvo il ritardo con cui vi state presentando ma ci potreste dare una mano ad approntare le ultime modifiche? ridatemi la vecchia Maggie questa mi fa paura ok ragazzi mettiamoci al lavoro che rimane poco tempo poi passiamo alla coreografia i tuoi amici ti stanno escludendo firmato spy number one ciao a tutti siamo Maggie e Bianca seguiteci sul nostro sito ufficiale, canali youtube e profili social e non perdete neanche un aggiornamento né un hashtag e non perdete neanche un aggiornamento